Ciao qui Liprandi. Ciao a tutti. Abbiamo voluto tirar fuori dei cassetti un po' di masters per giocare a fare una rassegna. Esatto, una sorta di carrellata per vedere l'evoluzione di Iman negli anni. Sappiamo benissimo che qui non abbiamo tutte le coppie Iman Skeletor action figure che siano state prodotte ma non è una selezione casuale. Mancano quelli commemorativi del 2000 che tutti quanti dimentichiamo spesso. Esatto. Mancano i classics. I classics. Mancano tutti quelli prodotti da Super 7. Mancano gli Origins. E mancano i Revelations. Mancano i Mondo Toys. Naturalmente. E mancano i master sets basati su Revelations. Il motivo è che tutte le serie che abbiamo neccato adesso e che qui mancano sono state prodotte per adulti. Fondamentalmente sono state prodotte per chi da bambino giocava negli anni 80 con gli originali. E contano sui ricordi. Contano sulla nostalgia. Cercano di vendere nostalgia. Esattamente. Ricordi del passato, nostalgia. Quelle che invece qua davanti abbiamo messo sul tavolo, a parte naturalmente i due originali dell'82, sono gli altri tre tentativi che Mattel ha fatto di riportare i animatori dell'universo alle origini. Nel senso, a ciò che erano inteso essere all'inizio. Esatto. Giocattoli. Sono tutte e quattro serie che erano rivolte al pubblico di bambini del tempo, ognuno per il suo tempo, e che volevano catturare l'attenzione e la fantasia dei bambini della loro generazione. Esattamente. Insomma, per un pubblico che non aveva nostalgia di nulla perché ancora non poteva averne. Quindi, per i bambini degli anni 80, degli anni 90, dei primi 2000 e del 2020. Esattamente. Si vede subito che sono molto diversi l'uno dall'altro. Sì, sono immensamente diversi come concezione, come costruzione. Ma alla fine la chiave di fondo è sempre la stessa. Ogni coppia di Iman Skeletor che vediamo è proprio figlia del suo tempo. Segue le tendenze della sua epoca. Nel primo caso ha avuto un successo tale da lanciare delle tendenze, ma già nascevano da uno sottofondo di moda. Volevo solo dire, chiuderemo una parentesi riguardo al fatto di cosa manca in scena. Mancano anche tutte le varianti. Sappiamo benissimo che esistono tantissime copie di Iman Skeletor, di varianti alcune volte belle, alcune volte brutte. Esistono i Battle Armor, esistono le versioni del fuoco e del ghiaccio nel 2000 e così via. Noi qua abbiamo soltanto la versione base di ognuna delle coppie. Sì, sì, sì. Insomma è il prodotto, il titolare della linea, diciamo così. Esatto. E' carino guardarli un po' per volta. Si inizia naturalmente dal 1982. In che contesto sono usciti i primi nominatori dell'universo della Mattel? Se come giocattolo erano abbastanza innovativi. L'idea di avere un formato più piccolo del bambolotto Migo Big Jim, ma più grosso del G.A. Joe dello Star Wars, con vestiti fissi addosso più o meno, anche se l'idea di avere un corpo unico quasi per tutti e dei pezzi di armatura da aggiungere sopra nasceva proprio da quel modello di giocattolo. Erano un po' una via di mezzo, una transazione tra il bambolotto Migo e l'action figure che abbiamo conosciuto più avanti negli anni 80 e 90. Esattamente. Diciamo che sono quelli che hanno reso quel formato popolare. Esattamente. Il soggetto, beh, diciamo che l'ambientazione fantasy era al top in quel periodo. Non è un caso se in quel periodo era uscito il film di Conan. L'anno prima era uscita la serie animata di Blackstar, perché non dimentichiamo che Blackstar con la sua spada del potere divisa a metà... E' arrivata prima di E-Man. Un anno prima era un cartone animato della filmation. I giocattoli sono usciti invece dopo sulla scia del successo di quelli Mattel. Era una cosa bizzarra. Erano gli anni, la fine degli anni 70 e i primi anni 80 sono stati il boom di Dungeons & Dragons. Sì. Il fantasy in sostanza era quello che attirava l'attenzione dei bambini. Perfetto. In quel contesto la Mattel ha pensato di lanciare una nuova linea fantasy, proprio perché i bambini volevano comprare fantasy in quel periodo. Visto il successo di Guardia Estellari, la Mattel penso di contaminare il fantasy con la fantascienza. C'è un forte tema fantascientifico nei Masters che non c'è in Dungeons & Dragons. In quel contesto sono usciti i dominatori dell'universo. Erano chiaramente stupefacenti. I bambini si trovavano per la prima volta in mano dei pupazzi solidi, aggressivi, perché design così aggressivi non si vedevano. No, in realtà di solito se prendiamo un soldatino qualsiasi, un actionman, che può anche essere armato con un fucile, ma di per sé una persona normalissima. E proprio l'aspetto che rendeva glamour il termine, rendeva affascinante, rendeva intrigante la loro cattivedia, non so come dire, la minaccia che questi personaggi cercavano di rappresentare l'uno per l'altro. Come risultato tra qualche idea di design e un talento scultorio brillante da parte di Bellomino, che ha scolpito questi personaggi con questa corporatura. E l'idea di marketing, di puntare su questa scala e questa fascia di prezzo, che fu un'idea Mattel. La combinazione è stata ovviamente vincente e molto bella, sono splendidi. Come contro si può notare una certa pigrizia nella produzione che potremmo pensare fosse scontata all'epoca in realtà, non è così. Questo forza di riciclaggio nelle parti che si vedeva nei dominatori dell'universo non era presente nella linea Star Wars di Kenner, ad esempio. Non era presente nei Tundercats, non era presente... Nelle altre linee contemporanee non c'era. E anche una pittura così grossolana, il fatto stesso che i polsi di Men non siano stati dipinti, i suoi bracciali. Non era così scontato. Molte altre linee di giocatori dell'epoca erano più curate. Il cartoncino dentro uno scudo. Esatto. Oppure alcuni personaggi prodotti in alcune nazioni naturalmente cambiava un po' la linea di produzione. Avevano la riga degli stivali a metà della peniccia. A metà della scultura perché erano colorati semplicemente pucciando il pupazzetto in un vasetto di vernice. Come un biscotto nel caffè e latte. E una produzione estremamente grossolana. Non era così scontato. C'erano linee di giocattoli molto più curate, contemporanee a questa. I G.A. Joe stessi che sono usciti nel 1982... I primissimi come pittura erano scarsissimi. Erano scarsi come pittura, però c'era già meno riciclaggio perché dalla seconda serie dell'anno dopo era una grande varietà di personaggi tutti diversi. Quindi il contro di questa serie era la pigrizia a livello di produzione. Il carisma dei personaggi nasceva dalla scultura e da alcune idee estetiche e il risultato è stato che quello bastava riempire il pacchetto. Sì. Non hanno pensato di investire in altro. Nessuno si lamentava che non avessero dipinto le ossa sul petto di scheletro o cose del genere. bene. Dopodiché si arriva al 1989. Nel frattempo i dominatori dell'universo sono arrivati a un picco pazzesco e un declino altrettanto brusco. Un declino bruschissimo, nel senso che nell'86 all'inizio, pare vendessero ancora molto bene, alla fine dell'86 erano in bancarotta. Sì, avevo un'intervista al regista del film dell'87 che racconta come nel corso della produzione del film si fosse partiti da una situazione in cui Mattel voleva investire per cercare di recuperare il successo, perché ovviamente già c'è la crisi. Alla fine della produzione del film, la Mattel era in rosso di centinaia di milioni per colpa di questi giocattoli che non vendevano più nulla. Esatto. E quindi... Erano messi molto male. Sì, cosa è successo? Fine anni Ottanta, la Mattel cerca di riproporre il brand. Non è una questione di nostalgia, chiaramente, perché è dedicato ai bambini. Sono stati due anni, dall'87 all'89. Che vantaggio... E assolutamente. Che vantaggio poteva esserci nel riproporre un nome? Beh, i genitori di un bambino che ha giocato con questo qui, nei primi anni Ottanta, avevano familiarità con il nome di Iman. Il bambino, fratellino del primo, che richiedeva un prodotto con lo stesso nome, secondo me aveva una base di mercato già fatta. Sì, poi, secondo me, ci sono altri motivi legali sotto, ad esempio il fatto di continuare a mantenere un brand o una licenza a tuoi, il valore di quel brand aumenta sul mercato, azioni e cose varie. Ok. Facciamo una pausa che mi si scarica tra la batteria. Vale, l'abbiamo ripreso. Sì. Dunque, quindi, fine anni Ottanta si ripropone il nome con una linea del tutto nuova e, appunto, è per bambini nuovi, non quelli che hanno giocato con quelli più vecchi. Ops. Questa è la serie più detestata. Questa è l'Ottantasette. In 1987. È la caduta di No Metà del Universo. Questi che abbiamo in mano adesso, invece, dell'Ottantanove, sono forse l'edizione più odiata. Sì. Non è difficile capire come vai, guardandoli così. Esteticamente sono brutti. Pessimi, pesimi. Allora, c'è un motivo. Siamo nella fine degli anni Ottanta. Quindi, il contesto è quello di una tecnologia che sta cambiando repentinamente, nel senso che i bambini iniziano ad affacciarsi in maniera così travolgente, forse, al mondo dell'informatica, ai videogiochi. Ci si sta affacciando agli anni Novanta, quindi cambia tutto. E poi, soprattutto, era necessario spezzare tantissimo dalla moda che era appena passata. Esatto. Siccome era passato così poco tempo, era necessario che i nuovi giocattoli sembrassero qualcosa di nuovo. Perché, se no, sarebbero stati... L'ombra del passato. La ribollita. Esatto. Quindi, si è passato ad un contesto tecnologico, futuristico. Al posto della magia abbiamo raggi laser, computer, circuito... Peraltro, noto una cosa. Nell'evoluzione, in particolare, dell'estetica delle linee Mattel, lui, che forse è un esempio più brutto tra quelli che sto a citare, decisamente sposa quel look fantascienza che si vedeva nelle ultime serie di Big Jim o in Captain Power. Si, si, si. Mi assomiglia fortemente. Che mondo era sempre Mattel come mondo. Esatto. Però il contesto era quello. Bisognava buttarsi sulla tecnologia ormai. Purtroppo, designer e scultori fecero un lavoro pessimo. Quindi, a livello di design, non si capisce cosa volessero ottenere e lo scultore probabilmente scoppiva con le narici. Era una cosa... E' molto, molto brutto. Dell'altro canto, però, non li vorrei denigrare troppo, perché lo sforzo produttivo del giocattolo è notevole. La pittura è molto più precisa di quanto fosse su molti Masters. Sì, hanno più articolazioni. Più funzioni. Non c'è riciclaggio. Sono tutti diversi l'uno dall'altro. E hanno complicati meccanismi, spesso più di un meccanismo all'interno dello stesso personaggio. Esattamente. Noi avevamo... Il primo che abbiamo avuto di queste serie da bambini era Karatti, che ha due mosse completamente distinte. Sì, sì, sì. Che sarebbero abbastanza complesse da completare un pacchetto di un unico personaggio, ma tutte e due nello stesso erano... Sulle articolazioni, peraltro, vi ricordiamo che non soltanto hanno il giunto universale, tipo sfera nelle anche, ma anche il ginocchio. Il ginocchio non solo si piega, ma può anche vuotare. In realtà sì, purtroppo fecero la scelta... È molto sottile e quindi è delicato. Il perno che si incastra nella gamba è molto sottile, quindi sono delicati. Avevano... Erano molto ambiziosi, ecco. Esatto. Brutti da vedersi, e questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è quello di essere così ambiziosi. C'erano molte funzioni, erano complessi, non male. Esattamente. Si può notare, la serie non venne accolta benissimo, chiaramente. Uno, lo notiamo perché durò poco. E due, perché dal tipo seconda serie o terza serie di questi pupazzetti, iniziano a farli muscolosi, più spessi, cercando di imitare l'estetica degli originali. In sostanza, inizialmente hanno voluto riscostarsi tantissimo dalle origini, perché avevano timore di vendere qualcosa che sembrasse l'ombra della serie più vecchia. Non funzionò. Non funzionano, ma cercarono disperatamente di riportarsi invece vicino alle origini. Ottenendo un risultato ancora peggiore, perché escono degli ibridi che non capisci che significato dovrebbero avere. In sé, questo tipo di design aveva il problema di mancare della semplicità che serve a un protagonista. Non riesco a riconoscere i tratti distintivi di un protagonista, come succedeva invece nell'82. È tanto generico, è blu e dorato, che sa di eroico, ma è tutto lì. Sono pieni di dettagli, ma senza carattere. Comunque, nel 90 penso, questi qua si estinguono. E i masters rimangono in cantina per un po' di tempo. Fino al 2001, se non erro, in cui Mattel tentò una mossa strategica producendo i famosi commemorativi, che erano, grosso modo, perché alcune parti di stampi erano state cambiate, gli stampe degli originali. I commemorativi, a quanto pare, goderono di un discreto successo per quello che possono essere, per quello che può essere un prodotto nostalgico. La Mattel pensò di poter promuovere una nuova serie con un nuovo cartone animato che cercasse di sposare le due cose, di accontentare i collezionisti da una parte e di attrarre nuovi bambini dall'altra. Perché questo era lo scopo della serie 2002. I masters avevano esattamente 20 anni. Eccoli qua. Erano dedicati ai bambini. Si tratta di una linea di giocattoli con una nuova serie animata, che non continua dalla vecchia, è semplicemente nuova. E un remake. Prende molte idee della serie originale, ma cerca di dare a tutto un look un po' più maturo, un po' più di profondità negli scritti. I personaggi e i veicoli sono pieni in zeppi di funzioni meccaniche, anche ridicole, dragoni che camminano con... Esatto, slime, c'era tutto quello che vi aspettereste nei masters, molte più funzioni meccaniche di quelle che vi aspettereste. Molto nel nostro pubblico è cresciuto negli anni 90. Nel pacchetto Kennel c'è un cannone a molla. Questo è. Sì. I masters di queste serie, con l'eccezione forse solo di Menescheletro, hanno spesso più di una funzione in ogni pacchetto. Stratos batte le ali e spara i missili. Sì, sì, no, no. Zodak ha tre funzioni meccaniche e così via. Erano giocattoli grossi e complessi. Ricchissimi di pittura. La pittura che avevano è più dettagliata di quella dei masterverse di oggi, letteralmente. Il design voleva essere fondamentalmente un'evoluzione di quello originale. Quindi si partiva dal concept dell'82 e si ricamavano sopra dettagli o aspetti un pochino più seriosi. Il risultato è che i design non sono mai brutti. In realtà sono abbastanza cattivati come design. Non sono memorabili proprio perché si tratta di aver spolverato qualcosa di più vecchio. Non sono solo ricamato su quello che erano gli originali. Quello che piaga la serie è innanzitutto una incredibile disparità nella qualità delle sculture. Passiamo da alcune sculture memorabili, perché questo scheletro è un gioiello. Ad altre, lo dico io perché sa cosa della scultura ce l'ha sempre a cuore, questo è pronto per affogare nello scarico del water. E' un disastro come scultura. La muscolatura è resa male, pigra, il volto è semplicemente in forme e ha una scodella di spaghetti rovesciata sulla testa. Guardate le linee sulle braccia, sono solo incise con uno stuzzicadenti. Mentre la muscolatura del braccio di scheletro, guardate la definizione che ha. E' un altro mondo. Esattamente, estremamente pigro e molto mal riuscito. Tra l'altro... Guardate le pieghine sul ginocchio, guardate gli addominali come sono fatti. Gli addominali di scheletro non rispetto a quelli di me. Non c'è paragonia. Insomma, purtroppo il protagonista era quello più penalizzato. A livello di design, tra l'altro, avevano rovinato la spada. Con questa tendenza che c'è molto nel mondo di videogiochi, di costruire spade che siano visivamente sbilanciate. E rendono... In realtà, invece di sembrare più minacciose, sembrano semplicemente poco pratiche. Oltre al fatto di incollare i circuiti stampati a caso sulla lama. Che non ha senso. Non ha nessun senso. Purtroppo la spada del potere è molto brutta. Ed è troppo complicata. Tra l'altro, si nota come per tutto il resto della serie, la cura nella pittura. Sono tutte dipinte le armi di questi. L'arma è in due pezzi perché ha uno snodo per fare la trasformazione del cartone animato. C'era un grande sforzo produttivo caratteristico, in realtà, di tante serie di giocattoli nei primi anni 2000. Ne parleremo in un altro video, forse. Eravano, insomma, molto costosi da produrre. C'era tanto impegno. Il pro è proprio questo. La complessità e alcune sculture brillanti. Il contro era un po' un controllo di produzione sfuggito di mano. Esatto. Non è una serie. Abbiamo visto di peggio. Abbiamo avuto i Hulk della Toy Biz, della serie animata. Non uno che funzionasse. Non funzionavano mai. Ne avevamo cinque o sei. Solo Zax funzionava. Tutti rotti fuori dal pacchetto. Questi non sono così termini. Non sono così malmessi. Però il nostro Mermen ha problemi a funzionare. Lo scheletro parlante ha parlato due volte e poi ha smesso. Non per la batteria, semplicemente perché è rotto. Per fortuna perché era tedesco. Insomma, direi che un 10% di quelli che compravi non funzionavano. Può essere lo stesso meccanismo Toy Biz. Per mettere così tante cose nel pacchetto dovevano per forza abbassare la copiata. Molto probabilmente il discorso è quello. Comunque, anche questi non furono chissà che successo. Il cantonio animato durò due stagioni. Abbiamo avuto bu, quattro, cinque serie di pupazzetti. Peraltro nacquero con le funzioni elettroniche. Nessuno di questi due ce l'ha. Però questi masters qui avevano un chip nascosto nel piede che permetteva al castello di Ray School di riconoscere il personaggio che arrivava e di aprirsi, scatenare le trappole o meno, selezionando buoni da cattivi. Sapeva perfino se aveva i personaggi dentro e altri fuori e chi c'era nel castello e chi c'era fuori. Purtroppo quella funzione era... Venne scertata subito. Esatto, l'hanno tolta di mezzo dopo la prima edizione del castello. Quindi sia negli Stati Uniti, quelli stampati dopo il primo periodo, sia tutti quelli seguiti nel resto del mondo, erano semplicemente castelli parlanti con un bottone che fa luce e suoni. Però immaginate come sforzo produttivo che non solo avevano più snodi, più pittura, più accessori e più funzioni delle altre sedie, avevano anche quella funzione elettronica in origine. Cioè Mattel aveva decisamente pensato di fare un altro botto enorme, cosa che non successe. 2002, credo. 2002, penso 2003, li salutiamo. Dopodiché passano, questa volta è l'arco di tempo più lungo, è passato perché si va... 18 anni. Dalla prima serie a quella dell'89 sono passati i 7 anni. Sì. Dall'89 al 2002 sono 13 anni. 13 anni. Diciamo che da quando era finita sono passati una dozzina di anni. E adesso ne passa invece 19. Beh no, dalla sua fine, forse 18 anni. Sì, dal 2002, se conti dall'inizio. No, no, dalla fine. Però siamo, penso, sui circa 18 anni. E arriviamo ai Masters moderni. Di nuovo, sono esattamente figli della loro epoca. Ed è l'aspetto deludente di questa linea dei giocattoli. Cioè, il design non è pessimo. È professionale, ma è troppo omologato. È anonimo. Vale a dire che qualunque edizione di videogiochi che cercano di essere vendibile a un pubblico anche più giovane. Sì, sì, sì. Adesso non conoscono i nomi dei videogiochi, ma le pubblicità che vedete prima dei nostri video su YouTube. Quelli che cercano di venderli lì. Sono tutti perfettamente identici. Tutti uguali. La spada di E-Man, anche con quella spada, con quella lama ridicola così grande, è stata fatta così solo perché nei videogiochi ormai le spade sono tutte identiche a quella. Ci tengo solo a dire una cosa perché l'ho notata nei commenti, non solo ai nostri video, ma anche su altri canali. Non è che nel cartone animato questi sono carini e la Mattel li ha resi così. Guardate che le braccia enormi, le gambe piccole, è esattamente così nel cartone animato sono fatti così, identici. Manca solo un po' di pittura perché Scheletro dovrebbe avere un po' di pittura per le catene, eccetera. Ma le sproporzioni ci sono nel cartone animato. Sì. Non sono un'idea di Mattel. Anche quello è uno degli aspetti negativi dell'omologazione. Posso solo dire che siccome il cartone animato in realtà come animazione è animato curiosamente bene. È animato molto meglio dei gormiti, ad esempio. I gormiti hanno una serie animata fatta malissimo. Anche se la tecnica è la stessa, è una CG abbastanza economica. La Mattel ha trovato degli animatori molto più capaci. C'è più sforzo. Sono molto più espressivi, recitano di più i personaggi. E quindi le sproporzioni, guardando il personaggio vivo, le noti di meno. Se il personaggio interpreta una parte, per quanto possa essere semplice, mi risulta più credibile. Ma alla fine non è esattamente l'aspetto del giocattolino che abbiamo in mano. Quindi appunto il difetto è quello. Un design del tutto anonimo. Il pregio è un ottimo rapporto di qualità-prezzo. Cioè non sono cari. Quantità-prezzo. Quantità-prezzo anche. Quello che distingue... Questi sono le serie più pesanti. Sì. Anche più del 2002. Eh, mi sa di sì. Non ho... Adesso non mi raccoglie il forino. No, però l'ho appena preso in mano e mi sa che... Sì. Beh, bisogna vederlo, eh. Se la gioca. Se la gioca. Controlleremo. Però, sì, sono appunto... Deludo un po' il design. Eh, di nuovo. Siccome ho iniziato un discorso e poi ho abbandonato. La prima serie è tutta sul fantasy. La seconda ha dovuto abbandonare il fantasy. La terza punta sul fantasy per il nostro agire, in sostanza. Qui siamo sul... Di nuovo, il fantasy qua non c'è quasi più. E' quella tecnologia fantasy da videogioco, appunto. Sì. Non vedo... Il barbaro non esiste più. Iman era un barbaro, ma... Il barbaro l'abbiamo abbandonato nell'82. È una cosa che nota Pixel Denny in un video, ma è vero in sostanza. Ogni volta che fanno la riedizione di Iman e Scheletto, gli ficano i pantaloni. Ed è per il motivo che hai detto tu. Sì, sì, sì. Iman è partito da un uomo ed è diventato un ragazzino. Questo volto qui, in realtà, di tutti quelli che abbiamo passato nella segna, è l'unico decente, tolto il primo originale. Il primo aveva un volto... Sono stati scolpiti male. Questo qui... Anche nelle... Scusami, anche nelle serie per collezionisti, il volto originale degli Origins è inguardabile. È mofroso. Il volto originale dei Classics è inguardabile. Non si capisce se deve essere un Superman o un... Non si capisce. Non ha un tratto suo. Non si decide, non riesce... Questo è stato reso bene, in realtà. Non è fatto male. Il problema è proprio nell'idea. È il classico principino Disney che poco ha a che fare con quello che vorremmo dare. Esatto. Cioè, la tecnica della scultura è molto buona. È il design che non va bene. Sì. Invece, appunto, gli aspetti positivi di questa linea sono sicuramente nella solidità e la massa. Il rapporto qualità-prezzo, perché quello che dicevamo è che, anche se sono giocattoli di importazione, ed è una differenza che dovremmo notare di più di quanto si nota, in realtà, nel mercato italiano, costano meno di quanto costano i giocattoli italiani. Sì. Quindi, non sono un tentativo così male. Sono sicuramente più riusciti... Ma esteticamente sono molto più belli di questi. Esattamente. Questi qua non si scendono. Mi dispiace, Rock, io lo so che tu lo adori questo. Però... Però esteticamente è brutto. Sì, sì, sì. Cosa c'è una stufa sulla pancia? In realtà, rispetto a quelli del 2000, alcuni personaggi erano più belli nella versione del 2000. E-Man qui non è così brutto. No, ok. L'E-Man del 2000 è proprio brutto. E il fatto che il titolare della serie sia più brutto della linea penalizza un po'. Ti passa proprio la voglia. Tant'è che io sono un quarantenne, ma quando immagino di giochi chiacci non è quella la versione di E-Man con cui gioca. No, no. Armatura anti-serpente, che è un po' più definito. Ok. Quindi abbiamo visto un po' una curiosa evoluzione. Non è neanche esatto il termine evoluzione, perché quando io dico evoluzione la gente pensa a passare da peggio a meglio. Mentre io poi intendo evoluzione nel senso cambiamento in accordo con i tempi. Sì. Non ritengo che tutte queste serie siano ugualmente buone. Non mi piacciono tutte allo stesso modo. Probabilmente quella con cui giocherei più valentieri è l'originale. L'unico motivo per cui di fatto non è lei quella con cui gioca di più è perché oggi costano tantissimo e ho paura di romperli. Però in realtà forse è quella con cui gioca lei di più. Non lo so. Loro erano molto ambiziosi. Ambiziosi, sì. Non viene voglia di giocarci perché sono troppo ambiziosi. Sembrano statue, non sembrano giocattoli. Anche le forme così sottili e magre. È tutto incredibilmente dettagliato ed è complimenti a chi l'ha realizzato. Però non me lo vedo questo coperto di slime. Non quadro. Non legge. In realtà avevano slime nella loro serie. Però semplicemente il loro slime si sarebbe incastrato nei meccanismi. Tutti i buchini della scultura. Non leggevano tanto. Questi qui sarebbero che si decidessero ad avere un po' di slime. Sì, sarebbe ora. Anche perché con tutta la storia del Lavoc nel cartone animato. Sì. E poi, tanto c'erano Matteo, potete farlo fosforescente, no? Davvero. Vado lì. Fatto apposta. Io non ci tengo mai alle ombre, ma un pochettino di scurimento sulle guance di questo scheletro non gli stava male. Perché è fatto di un colore così brillante. Che non vede più le forme. Non vedere più le ombre e quindi neanche le forme. Quindi non si capisce nemmeno che sarebbe un teschio. In realtà se l'ho guardato il teschio è anche scolpito benino. Sì, sì, è carino. E che è così luminoso non riesco a vedere che forma ha. Comunque. Boh, abbiamo fatto mezz'ora di video. Esatto. Vi sarete addormentati, quindi buonanotte a tutti. Io ho sempre trovato mostruosamente noiose quelle trasmissioni di calcio in cui non vedi nemmeno la partita, ma solamente gente vecchia e brutta che parla della partita. Bene, è quello che abbiamo fatto noi oggi. Anzi, molti di voi penseranno che qua manco si parla di calcio. E non l'abbiamo fatto in video, ma abbiamo minacciato di metterci a pesare di giocattoli. Poi di settimana fa la cena da un amico e il suo figlio di dieci anni mi ha chiesto ma perché uno dovrebbe mettersi a pesare i giocattoli. È stato umiliante, però noi lo faremo lo stesso. Va bene. Va bene. È finita qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti.